Ciao ragazzi, in questo video facciamo un velocissimo riassunto su tutte le cose più importanti da sapere sull'Africa, accompagnato però da tante curiosità con video e immagini. Cominciamo a dire che l'Africa è il terzo continente più grande del mondo dopo l'Asia e le Americhe. È bagnata da due grandi oceani come l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso. È separata dall'Europa, dal piccolo stretto di Gibraltar ed è separata dall'Asia, dal canale di Suez, questo canale artificiale che ha permesso il collegamento tra il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso. Il territorio è in gran parte pianeggiante, tuttavia non mancano i rilievi, soprattutto lungo la Rift Valley, che è questa enorme spaccatura della crosta terrestre, questa fossa tettonica, che attraversa tutta l'Africa orientale. E poiché questo pezzo si sta staccando, qui potete vedere come sarà l'Africa tra qualche milione di anni. Il monte più alto è il Kilimanjaro, alto quasi 5.900 metri, e poi il Kenya, di circa 5.200 metri. Abbiamo poi diverse catene montuose come l'Acrocorro etiopico, la catena dell'Atlante che attraversa Marocco, Algeria fino alla Tunisia, e a sud, nel Sudafrica, abbiamo i Monti dei Draghi. Tra i fiumi più importanti sicuramente c'è il Nilo, con due grandi affluenti, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro. Poi abbiamo il grande fiume del Congo, il Niger, lo Zambesi, che dà anche origine alle bellissime cascate Vittoria, mentre nel Sudafrica vi segnalo il fiume Orange. Il lago più grande invece è il lago Vittoria, poi abbiamo il lago Tanganyika, il lago di Niassa e il lago Chad. Da ricordare poi il Golfo di Guinea, che è uno dei più grandi al mondo. Assolutamente da ricordare è il deserto del Sahara, che è il deserto più grande al mondo, vedete che occupa tutta la regione del Nordafrica, e ha una superficie quasi quanto quella dell'Europa. A sud invece troviamo due deserti, il deserto Namib e del Kalari. Il Madagascar, che si trova qui, è l'isola più grande, e attorno vedete che ci sono tanti arcipelaghi, come le Seychelles, le Mauritius e le Comore, tutte famose per il turismo. L'Africa è tagliata perfettamente al centro dall'equatore ed è attraversata dai due tropici, quello del Cancro e quello del Capricorno. Quindi, come si vede, presenta dei climi e degli ambienti naturali praticamente speculari, sia a nord che a sud. Lungo le coste più estreme, sia a nord che a sud, abbiamo il clima mediterraneo, con la classica vegetazione mediterranea. Lungo i tropici troviamo un clima arido desertico, infatti qui abbiamo il Sahara e qui i deserti del Kalari e Namib. Nelle regioni centrali invece abbiamo un clima tropicale, infatti il bioma tipico, l'ambiente naturale, è quello della savana. Lungo l'equatore invece abbiamo un clima equatoriale, un clima caldo-umido, quindi c'è il sole e piove. La vegetazione tipica è quella della foresta pluviale, come si vede anche in questa immagine. Riassumendo, e per non confondervi, vi lascio anche quest'altra slide. Mi raccomando a non confondervi tra Sahara, Sahel e Savana. Il Sahara è il deserto. Il Sahel invece rappresenta questa fascia, questa zona intermedia, tra il deserto e la foresta pluviale. La Savana invece è il bioma, cioè l'ambiente naturale, con i caratteristici animali e vegetazione, come ad esempio il Baobab, che sono degli alberi, ma anche leoni, zebre, elefanti, gazzelle, ghepardi, rinoceronte e tanti altri. La maggior parte dei libri di geografia suddividono l'Africa in cinque grandi macro-regioni, che sono l'Africa settentrionale, l'Africa occidentale, l'Africa centrale, quella orientale e quella meridionale. Altre aggiunte possono essere ad esempio i paesi del Maghreb, che sono Marocco, Algeria e Tunisia, oppure i paesi del Sahel, come Mauritania, Mali, Niger, Chad, Sudan, che si trovano proprio tra il deserto del Sahara e la grande foresta pluviale. E cominciamo allora a vedere anche gli stati con le capitali e le città più grandi e importanti dell'Africa. I paesi ve li ho messi in grassetto. Tra parentesi abbiamo le capitali e i numerini indicano i milioni di abitanti. Quindi cominciando dall'Egitto, vediamo che la capitale è il Cairo, con ben 18 milioni di abitanti, ed è anche la città più popolosa dell'Africa. Al centro abbiamo la Repubblica Democratica del Congo, la capitale Kinshasa, con 15 milioni di abitanti. La terza città più grande dell'Africa è Lagos, che si trova in Nigeria, però non è una capitale. La capitale della Nigeria, infatti, è Abuja. L'Algeria, invece, è lo stato più grande dell'Africa, la capitale Algeri. Il paese più ricco, invece, è il Sudafrica, che fa parte anche dei BRICS, cioè di quei paesi, con il più alto sviluppo negli ultimi anni, e ha questa particolarità di avere ben tre capitali. Ma la città più grande del Sudafrica è Johannesburg, con ben 14 milioni di abitanti. Altri paesi da ricordare sono, ad esempio, la Libia, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco, perché sono molto vicini all'Europa. Abbiamo poi il Sudan, l'Etiopia, la Somalia, l'Angola, la Nigeria, il Senegal, il Kenya, e la bella e grande isola del Madagascar. Per quanto riguarda la popolazione, ha oltre un miliardo di persone, e l'Africa è il secondo continente più popolato al mondo. Vi sottolineo però che la popolazione africana è in fortissima crescita. Infatti, diverse stime valutano che nel 2050 la popolazione raddoppierà, e addirittura nel 2100 arriverà a 4,5 miliardi. In Africa si parlano migliaia di lingue locali, tribali, ma sono molto diffuse l'inglese, il francese e l'arabo, visto il passato coloniale. Vediamo l'inglese in paesi come la Nigeria, il Sudafrica, il Kenya, il francese invece nei paesi del Maghreb, quindi Marocco, Algeria, anche il Congo, perché ex colonia belga. L'arabo invece soprattutto in Egitto, ma in tutti i paesi del Nord Africa, fino alla Somalia. Da questa cartina invece vediamo la distribuzione delle varie religioni, per cui l'Islam nelle regioni settentrionali e nel corno d'Africa, il cristianesimo invece nelle regioni centro-meridionali. Ma diffuse e sparse sono anche varie religioni animiste. Per quanto riguarda l'economia invece l'Africa è il continente più povero e le cause sono molteplici. Lo sfruttamento da parte delle potenze e delle multinazionali straniere, l'instabilità politica con numerose guerre per il potere e anche per la corruzione. Tra i paesi più ricchi abbiamo innanzitutto Sudafrica ed Egitto. Per le risorse minerarie ed energetiche abbiamo anche il Congo e la Nigeria. Tra i paesi più poveri, cito ad esempio Zimbabwe, il Burundi, la Repubblica Centroafricana, ma ce ne sono moltissimi altri. Il 60% della popolazione vive di agricoltura, un'agricoltura di sussistenza, ma abbiamo anche molte piantagioni intensive sfruttate dalle multinazionali per la produzione ad esempio di caffè, cotone, cacao, tabacco e tè. Lo stesso vale anche per gli allevamenti intensivi dei bovini e caprini. La pesca invece è meno sviluppata, di più la ritroviamo in Sudafrica. Potenzialmente però l'Africa è ricchissima di risorse minerarie, come oro, argento e diamanti, soprattutto in Sudafrica. Però l'estrazione di questi minerari è soprattutto in mano, vi ripeto, alle multinazionali straniere. Abbiamo poi diverse risorse energetiche come petrolio, gas e carbone, ad esempio in paesi come la Nigeria, ma anche l'Algeria, la Libia ed altri. Una menzione particolare invece riguarda il coltan e la Repubblica Democratica del Congo. Il coltan è la contrazione di due minerali, la colombite e la tantalite, ed è soprattutto la percentuale di tantalite che ne aumenta il valore. Viene estratto soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, infatti qui addirittura c'è l'80% dell'estrazione mondiale. Il coltan è importantissimo per quanto riguarda le industrie dell'informatica e dell'alta tecnologia, quindi telecamere, cellulari, smartphone, pc, playstation, batterie per le auto elettriche e molti altri dispositivi. E serve in pratica a ottimizzare la conduzione, ma anche il consumo di energia nei vari chip e anche la durata della batteria. Fino a pochi anni fa il coltan nessuno se lo filava. Pensate che nel 98 valeva circa 2 dollari al chilo, però in pochissimo tempo si è arrivati addirittura a 600 dollari al chilo, e oggi va all'intorno ai 150-200 dollari. I prezzi si sono abbassati perché per l'estrazione è sfruttata la manodopera a bassissimo costo, soprattutto lo sfruttamento dei bambini, perché essendo piccoli riescono poi a infilarsi in queste buche anche molto pericolose. L'estrazione è controllata da gruppi armati, con la complicità di multinazionali straniere. Perché allora nessuno dice niente? Beh, perché piace a tutti comprare un cellulare ultramoderno a poche centinaia di euro, piuttosto che pagarlo 10.000. Tornando a noi, il settore secondario, quindi l'industria, è poco sviluppata, così come anche il settore terziario. In via di sviluppo invece sono le reti di comunicazione, quindi strade, autostrade, ponti, ferrovie, porti, grazie soprattutto a investimenti cinesi. Più sviluppato invece è il turismo, soprattutto paesaggistico, pensate ad esempio ai safari, e anche a quello balneare, soprattutto nelle isole Mauritius, le Seychelles e il Madagascar. Per quanto riguarda la storia, innanzitutto l'Africa, dal punto di vista geologico, è il continente più antico, ma è anche considerata la culla dell'umanità. Qui infatti troviamo gli ominidi più antichi, come la famosissima Lusi, risalente a 3,5 milioni di anni fa. E sempre in Africa sono nate le prime specie Homo, quella Abilis, Erectus, Sapiens e Sapiens Sapiens, che intorno ai 100.000 anni fa è uscito dall'Africa e ha cominciato a occupare tutti e cinque i continenti. Intorno al 3.000 a.C. abbiamo poi l'importante civiltà egizia, poi fu occupato da vari imperi come quello macedone di Alessandro Magno, l'impero romano e soprattutto gli arabi. Tra il VII e il XVII secolo abbiamo avuto anche importanti regni come quello di Etiopia, del Congo, del Ghana e del Mali. Le prime esplorazioni e colonizzazioni dell'Africa si sono avute nel 400, soprattutto per mano dei portoghesi, che fondarono diversi porti basi navali lungo le coste africane per raggiungere le Indie. Dopo la scoperta dell'America è iniziata anche la tratta degli schiavi tra il XVI e il XVIII secolo, per cui diverse potenze europee, tra cui spagnoli, inglesi e francesi, arrivavano in Africa e compravano questi schiavi neri che poi portavano nelle piantaggioni americane. Invece è molto importante sapere e ricordare l'imperialismo europeo. Infatti, verso la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, le potenze europee, soprattutto francesi e inglesi, ma anche tedeschi, italiani, portoghesi e spagnoli, conquistarono praticamente tutta l'Africa. Restarono indipendenti soltanto due paesi, come la Liberia e l'Etiopia, che invece verrà conquistata dall'Italia con Mussolini nel 1936. Tutti gli altri paesi invece vennero conquistati e sottomessi sia dal punto di vista militare, quindi con l'uso della forza, che dal punto di vista economico. Lo scopo infatti era sfruttare tutte le risorse che il territorio offriva, quindi oro, argento, diamanti, vedi ad esempio il caso del Sudafrica con gli inglesi, ma anche tutti i prodotti offerti dalla terra, quindi prodotti agricoli e di allevamento, a vantaggio dei paesi europei. Col tempo poi questi paesi mandarono a vivere i propri abitanti qui, diventando appunto delle colonie. Con la scusa di portare la civiltà, la modernità, lo sviluppo tecnologico, i bianchi presero il controllo delle risorse energetiche, nacquero aziende agricole e industriali, bancarie, tutte in mano ai coloni europei, mentre la popolazione nera veniva sfruttata a basso costo. Dopo la seconda guerra mondiale è invece iniziata la decolonizzazione, cioè l'indipendenza di tutti questi paesi. Tuttavia il potere economico, e se vogliamo anche politico, restava ancora in mano alle potenze e multinazionali straniere. Per cui, nonostante le enormi potenzialità, l'Africa presenta ancora numerosissimi problemi, come la povertà, le guerre, scatenate per motivi religiosi, o per le lotte per il potere, o per conflitti tra etnie diverse, o, come abbiamo visto nel caso del Congo, per il controllo e lo sfruttamento delle risorse minerarie. C'è poi il problema dello sfruttamento del lavoro minorile. Molti, infatti, non hanno accesso alle scuole, né a servizi sanitari. Ospedali e farmaci, infatti, sono carenti, ed è molto diffuso anche il problema dell'AIDS. Infine, gran parte della popolazione, soprattutto nera, ha enormi difficoltà di accesso all'acqua e al cibo. Per cui tutto questo è causa di forti emigrazioni. E, da ricordare, ad esempio, il caso della Libia, per cui molti dall'Africa centrale partono, attraversano tutto il Sahara, e, arrivati in Libia, sperano di imbarcarsi per raggiungere l'Italia, e da qui l'Europa, alla ricerca di condizioni di vita migliori.